Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In a 12 per lavori, code tra l'allacciamento con la 11 e Pisa Centro in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento a 1 di Firenze in prunita e San Casciano. Sulla Siena-Bettolle fino al 26 settembre per lavori chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia per lavori scambio di carreggiata tra Monte Pescali e Gavorrano chiusi gli svincoli di Braccagni e Monte Pescali in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!